avevo fino che ho smesso di fumare avevo la taglia 36 38 ho smesso di fumare sono andata a larghezza ma allora perché vuoi che smetto puoi vedere tu puoi andare così parti prima ma l'anno prossimo ci sarai nella famiglia ciao No, non è un po' di l'auto. E' un po' di l'auto. E' un po' di l'auto. Ok. Ok. Sì Come guarda? Sì Sì Teripto Sì 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 La Sì 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 Moris Caric, Cecil Camper. Cecil Camper, Marco Caric, Marco Caric, Marco Cusco, Marco Marco Moris, con un'itemato, con un'itemato, con un'itemato, Carlo Abarth, con Moris. … … … … Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.